Centro urbano sul mare Adriatico a 10 chilometri scarsi a nord-ovest di Barletta e circa 35 chilometri a sud-est della costa garganica. La sua identità è fortemente legata alla presenza delle omonime saline che si sviluppano lungo la costa dell'abitato verso nord. Oggi primi in Europa per estensione. Sorto come colonia di operai impiegati in questa produzione, il centro era denominato fino al 1879 Saline di Barletta per poi assumere il nome della consorte di Re Umberto I. Legate alle particolarità del paesaggio e del terreno paludoso sono anche le altre attività per cui il centro è noto. Il turismo in primis, con presenze nella zona in visita sia alle riserve naturali, caratterizzate da flore e fauna peculiari, caratteristici fenicotteri, sia alle spiagge, spesso insignite del titolo di bandiera blu, e ancora alle terme, dalle acque ad alta concentrazione di sali, bromo e iodio. Anche la produzione agricola, con ortaggi come cipolle, patate e carote, è legata al tipico terreno sabbioso.